La Maremma è una delle zone più belle d'Italia, eppure non decolla. Il turismo, le infrastrutture, le politiche per l'occupazione, le politiche per i rifiuti, per l'ambiente, sono i grandi temi a cui si deve lavorare per rilanciare lo sviluppo del grossetano. Quindi ora tocca a te dare alla tua provincia la possibilità di diventare protagonista di un cambiamento grande e profondo con una precisa scelta di campo nel ballottaggio di domenica 21 e di lunedì 22. Quindi dai il tuo voto al nostro candidato, al mio amico Alessandro Antichi, dai il tuo voto al candidato del Popolo della Libertà, che riscuote la mia piena e totale fiducia. Domenica 21 e lunedì 22 giugno si terrà il ballottaggio per l'elezione del Presidente della provincia di Grosseto. È il momento di cambiare davvero. Vota Alessandro Antichi.